. OCM copyright news 1. U con con accento grave a condieresi barra rovesciata x0.Copyright x u condieresi tm di o in negazione barra rovesciata i u condieresi barra verticale u condieresi. . 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 U con con accento grave U con dieresi barra verticale U con dieresi tv, e tislandese, t barra verticale P o con tilde A con dieresi tv e tislandese O con tilde XL barra rovesciata U con dieresi Y con accento acuto minore di 8 di H con dieresi. Ocni barra rovesciata e virgola di T di U con dieresi con con accento acuto U con dieresi L barra rovesciata U con dieresi Y con accento acuto minore di U con dieresi KT, tv barra verticale U con dieresi Ocni micro TH o barrata 8 A con dieresi. Ocni M Yen chiocciola U con dieresi barra verticale U con dieresi E tislandese O barrata dollaro A con dieresi X 1 Yen 0. E uguale U con con accento grave A con dieresi virgola 1 barra 4 uguale barra rovesciata U con dieresi barra verticale E tislandese I con accento circonflesso chiocciola 0. Barra rovesciata U con dieresi O barrata uguale P U con dieresi Y 0 o con accento circonflesso micro A euro chiocciola barra rovesciata M A con dieresi E o E.